Carlo, io non lo so se riuscirò a dirti tutto quello che dovrei. L'inverso, eh? Non so come all'incontrare. Diciamo che è un modo di guardare le cose da una prospettiva diversa. Ma come l'hai cambiato? Ma chi l'ha cambiato? No, ho cominciato a vedere la cosa da un'altra prospettiva. Vai via. Non vado via, ritorno. Dipende da che prospettiva la guardi. Ammazza che sound. Ti facciamo entrare nell'ambiente. Noi conosciamo. Noi qua, noi là. Ma noi chi? Ma quanti erano? Uno. Nel giro di una settimana facciamo videoclip, incidiamo il singolo e facciamo pure il cd. E va a finire pure che vinciamo il disco d'oro. Ma come l'avete risolta? Ma alcune cose devono avere il senso che ti aspetti. Come quando il cielo è grigio. Sta lì per piovere, solo che la pioggia poi non cade. Inverso, che facciamo? Entriamo? Ciao a tutti. Il film d'animazione vincitore dell'Oscar, Frozen, Il Regno di Ghiaccio, ha battuto un nuovo record. È infatti il quinto incasso mondiale della storia con 1219 miliardi di dollari, però. Battendo i 1215 miliardi di Iron Man 3 che è passato al sesto posto. Rimane comunque ancora imbattibile Avatar che ha incassato ben 2782 miliardi di dollari. Eh ma James è James, c'è poco da fare. Altro video, altra notizia, quindi vi aspetto. Ciao a tutti.